Per giorni, anzi settimane, Ida Platano e Gemma Galgani avevano scatenato la preoccupazione dei fan in quanto sembrava fossero letteralmente scomparse dai social Se Gemma Galgani è sempre più serena e indisparte a Uomini e Donne l'altra ha vissuto un trono fallimentare Sono tornate, l'annuncia sorpresa.Grandissima festa online Finalmente gli affezionati e fedelissimi telespettatori di Uomini e Donne Over si sono potuti tranquillizzare per quanto riguarda il periodo d'assenza web di Gemma Galgani e Ida Platano che hanno dato loro notizie E che notizie! Bellissime e raggianti, i loro fan hanno accolto il loro annuncio Sono ormai diversi anni che la dama torinese, l'icona indiscussa della parte over di Uomini e Donne dal primo giorno in cui è stata inaugurata, e la siciliana trapiantata a Brescia sono grandissime amiche Loro si sono sempre capite e infatti il loro modo di affrontare la complessa sfera sentimentale è sempre parso simile al pubblico di telespettatori, che ha imparato a conoscerle lungo le loro tante relazioni naufragate È stato un periodo molto duro per Ida Platano, il suo trono non ha portato a frutti e se ne è dovuta andare via a mani vuote e con più problemi di prima Il suo futuro è incerto e ha bisogno di relax per recuperare Con lei c'è Gemma Galgani a sostenerla. Dopo il preoccupante silenzio eccole a sorpresa insieme a dire la verità Sono in vacanza insieme, quindi comprensibilmente distratte non avevano aggiornato nessuno Abbronzate, loro, hanno augurato una buona estate ai fan che non aspettavano altro Oh eccole! Allora possiamo stare tranquilli, ma che bella sorpresa, ehi bellezze! Divertitevi insieme, scrivono alcuni Ciao! Ciao!